di nuovo buon pomeriggio cari amici dal vostro nicola da lucia e come vi ho promesso questo secondo e ultimo video di oggi dove parliamo di wrestling e si perché da come vedete nella copertina del video di andè prima nell'ultima puntata della show rosso della wb ovvero monday net raw da un discorso iniziale di proseguo di rivalità di fai da tra gli autors of pain Seth Rollins tra virgolette anche baddie murphy con Seth Rollins che si autoproclama al momento del messia dello show rosso di raw e ha prescelto colui che la settimana scorsa l'ha aiutato come suo discepolo ovvero baddie murphy si è creata appunto una sorta di quattro contro due con viking raiders autors of pain Seth Rollins baddie murphy samuel joe kevin owens insomma sta di fatto che poi nel corso della puntata di stanno è stato annunciato non dico inaspettatamente però è stata quella sorpresa il risultato finale di tutto che Seth Rollins e baddie murphy hanno affrontato i campioni di coppia viking raiders di raw e li hanno battuti e sì baddie murphy anzi questa volta ha ricambiato Seth Rollins è stato molto determinante ed efficiente ad aiutare baddie murphy a portarsi la vittoria a casa e di conseguenza anche le cindure dei titoli di coppia di raw dove a questo punto non penso che magari possano essere difese alla royal rambo credo di no comunque a proposito di questo non perdetevi poi sabato massimo domenica mattina il video dedicato al paper blue royal rambo con presentazione dei match e dei miei pronostici diciamo su quest'ultimo bene grazie a tutti per l'attenzione anche quest'oggi ci vediamo domani dove vi terrò compagna con altri due video ricordo in conclusione Seth Rollins il messia di raw e il suo discepolo baddie murphy si sono laureati nuovi campioni di coppia di raw battendo i viking raiders ciao a tutti alla prossima e buon pranzo ciao